Presso il Centro Commerciale Mongolfiera Taranto, Degustibus, ristorante, pizzeria, caffetteria e ancora, rosticceria, trattoria di mare, gastronomia con self-service veloce, reparto, focacceria e pizzeria, prodotti fatti al momento con impasto a lunga lievitazione utilizzando il lievito madre, pizze, pucce, panzerotti, arancini di vario gusto, crocchè, oltre ad una vasta gamma di prodotti già presenti sul banco. Banco gastronomia, una serie di primi e secondi piatti già pronti, ma soprattutto varie specialità preparate all'istante con materie prime del territorio, piatti della tradizione culinaria pugliese, taglieri di salumi e formaggi, trattoria di mare con degustazione di vini di altissimo livello, Servizio buffet d'asporto, catering con preparazione in sede ad opera di personale specializzato, convenzione con le aziende, con l'apposita scheda rilasciata scontistica per tutti i reparti. Mangiare bene fa bene! Il gusto ed il sapore di una volta li trovi nei piatti di Degustibus, rivisitati in versione moderna.